Questa mattina le gallerie San Paolo della Croce e Regerlo in A10 dovevano riaprire alle 5.30 dopo i consueti lavori notturni di messa in sicurezza che urgenti probabilmente lo erano da tempo ma sono stati accelerati dopo il crollo a Masone sulla A26. E invece la chiusura è continuata fino alle 10 quando è stata riaperta una sola corsia. Di conseguenza sulla A26 e sulla A10 si sono formate lunghe code. La riapertura totale è avvenuta alle 11.15. Attorno alle 12.30 code di 1 o 2 km si registravano ancora fra il bivio fra l'A26 e l'A10 e Masone e tra Renzano e il bivio tra l'A10 e l'A26. Centinaia di automobilisti e mezzi pesanti si sono incolonnati ed è assaltata la seduta del Consiglio regionale. Il presidente del Consiglio regionale Ligure ha chiesto ad Autostrade un rimborso. Da settimane ormai la Liguria fa i conti con i cantieri per la messa in sicurezza delle gallerie che si sono saldati di fatto con quelli per la verifica dei viadotti e per la rimozione delle barriere fonoassorbenti non sicure. Al termine del lockdown i lavori sono ripresi. In A12 si viaggia su un'unica corsia fra Recco e Chiavari. Questa mattina i tre sindaci di Portofino, Santa Margherita Ligure e Rapallo hanno chiesto con insistenza il termine dei lavori entro il 30 giugno. Poche ore dopo Carlo Bagnasco ha ulteriormente calcato la mano ventilando una richiesta d'anni ad Autostrade invocando l'istituzione di una commissione straordinaria per la mobilità della Liguria. Nel primo pomeriggio poi si sono formate code Fra Sestri, Levante ed Eva Marina. Attualmente sono quattro i cantieri che interessano la tratta Fra Sestri e Brugnato gestita da Salt. Diversi gli esponenti politici dello spezzino che sono intervenuti in merito per chiedere la sospensione del pedaggio in tutta la provincia fino al termine degli interventi.